Sì Guarda noi tu, cari adorosi, assiede a tu romani, a voce ricchi e tu, ma guarda a te di cosa. Aspetta, perchè ma ma state state in grado, io e te? Perchè non si poteva morire bello come tutto quando l'ha, allonti delle storie, come a tutto quando l'ha. Ho corto e spazio. Perchè se mi pare se mi ha lasciato, come tu mi ha ricordo, perchè? Io lo voglio bello, tu lo sai, lo voglio bello. Quanto anno ha già spottato sto momento? Assoluta, assoluta che l'ha segnata, ma arriva tu non te vò bello, ma arriva tu non te vò bello. Assoluta che l'ha segnata, assoluta, ha già scritto una lettera a mia madrella a Milano, la famiglia mi ama tutto cosa, sto volendo bene come loro, me ne vengono via assoluta, io voglio che tu vuoi essere la prima da vivere, io voglio essere felice, felice con te. E trova una tentazione. Assoluta, noi ci volemmo bene, ci volemmo bene e non potremmo essere la prima da vivere. Non vado. Ma tu vuoi essere la prima da vivere. Non ti voglio fare. Mi dò miglia, mi dò miglia, amore miglia. Bravo. Bravo. E tu? E tu? E tu? E tu? Fai a parlare, Pasqua, fai a parlare. Ma che vuoi parlare? Ma che vuoi parlare? Tu sei la vergogna. Tu me lo dà metto un scorrino da casa mia. Ma che scorrino? Tu non vuoi sapere cosa ha fatto insieme per me. E se non fosse stato per noi sarei molte fammi. Io e il figlio mio. Ma che stai dicendo? Sì. Ma che stai dicendo? Sono stata l'America fino a ora. E i soldi, chi ti ha mandato l'America? Chi ti ha mandato? E i soldi? Da lì ogni tanto. Da lì? Sì. Da lì ogni tanto mi arriva. Soffrino, soffrino il pezzo dell'Inferno. Sabato. Tu questo non mi arriva. Tu questo non mi arriva. Tu sei stato in Agarogna. Tu sei stato in Agarogna. Ma che stai dicendo? Salvatore, ha detto Dio. Ma lei ti ha detto? No. Ti ha detto da me. No, non lo faccio. Ti ha detto da me. Che vuoi fare? Ti ha detto da me. Che vuoi fare? Pasquale, Pasquale. Tu sei stato in Agarogna. Che vuoi fare? Tu sei stato in Agarogna. Ma quanto era la mia? Trevando con tutta strada. Chi viene? Esi sono... State di... State di... State di... Statevi ho fatto. Dove hai fatto tu? Sì. Si comporto come ti sei comportato tu. carogne buona e queste arite che fanno esse esse il malamento Grazie.